ok ragazzi eccoci qua siamo online e finalmente dopo se una settimana da quando lo stremmiamo benvenuti in live belli belli bambini malvenuti 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 si oggi vi presento una puntata di ground bug anzi ground game bug scusatemi regalo faccia saltavo e che complimenti che poi completato roba ma rega non ce la faccio io al primo tentativo io al primo tentativo sono la persona che ha dei problemi mentali scusatemi non è che di essere abile esatto no 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 spero si chiama quell'altra versione come si chiama non mi ricordo raga ma scusatemi se noi facciamo che prendiamo il barile no lo mettiamo sotto l'aragnatela si ok tu poi con l'aragnatela no prendi un sasso che ora cercherò prendi un sasso tiri un sasso eh dicevo tiri un sasso eh ciri un sasso ma che questo ottimo il sasso si bagga in mezzo all'aragnatela che si bagga no 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 è dentro l'acqua vabbè non si beve l'acqua e si cade no non cade non cade si si è caduto che cosa so io no 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 era appiccicato ti giuro se vedi la live era attaccato dentro l'acqua quando l'ho bevuta è rimasta attaccata guarda guarda eh ah no aspetta vedi c'è qualcosa che è un quadro ah però è bellissimo e scherzi sassi c'abbiamo un canesto volta apposta non utilizza l'acqua dirigente raga bisogna andare nel basso destra e basta destra della mappa da quello che ho detto quindi basta destra e dove dobbiamo andare in realtà e dove sta field station credo sia credo che sia dove dobbiamo andare noi ok andiamo lì raga allora bisogna andare però chi è che sta appunto giusto che è questo ma che cazzo ha detto ok raga di qua di qua dove sono io seguito a me e dove sei? ah ok nella mappa no scherzo bisogna andare verso quel cappellino che c'è a 170 metri di qua guarda che raga che qua ti toglie l'arma ok vai no 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 ok veramente aiutate 350ござi fratti quanti sono elli aAm ah eccomi ma quello vol- voll no raga quello volpe no lufo scusa scusa l'ho un lupo no volpe kind vabbè so fumato stasera raga abolf quello lupo lup lupo 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 ma che vuole fare ma che vuole fare ma che vuole fare ma ragazzo sono tuimoli Sì ma che cosa vogliono fare contro di me Eh sì io lancio l'arco Intanto sa votarvi L'ho ucciso? Vabbè raga qui abbiamo Due volte di mortale No putta a me Putta di mortale Mi ha fatto male Mi ha fatto male Sta a metà vita Ma sei come una pipa Ma come fai a questo così pipa? Io pensavo che erano forti questi Vabbè 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 Scusi eh È morto è morto non vi preoccupate è morto L'immortalità su sto gioco è qualcosa di illegale raga Qualcosa di illegale Si aveva una penda? No 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 Un altro? Un altro? Oh ma che stupido fa la fare Ah questo è facile Lo giallo è facilissimo L'hormon waiver Ma io mi immagino quello sott'acqua Ah giù se non lo sapete Comunque metterà Un buon aggiornamento Metteranno il 27 agosto Eeeh In poi cosa aggiungeranno? Metteranno Nuovi insetti sottomarini Metteranno un nuovo ragno Metteranno la Che era il girino Poi tipo una zanzara E' la carpa E' la carpa E' la carpa E' la carpa E' alta di male probabilmente Io voglio la carpa E probabilmente le metteranno la parte del lago Dove sta il lago sul giardino E' in più Nove armi Nove armature E anche sembra un'arma da fuoco Quindi probabilmente Una sottospecie di Fucile che spara Non lo so Rocce Così di sto tipo Comunque sono stati semplici Doce di due cose Allora Andiamo 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 Dove? Eeeh Darby Giusto Visto che sono io Poi al malpatore Aspetta Mi dovete seguirmi Un attimo Che devo orientarmi Ok Dico Ma me la staggia Comunque Mi si scorre Molto lentamente Perché? Ma C'è Ci metto Pochissimo No 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 Intendo che A me Mi scorre Molto lentamente C'è Non è che A me Non è che S'è S'è Proprio Eh va per te Anche a me Proprio lentamente S'è Ma Che cambia modalità Black? No Non ti può Cambiare modalità One Eternity Later C'è un'entrata C'è un'entrata Dentro Questa Ma dove? Ma dove stai? Avete messo voi Delle teste Di Di Formica Oh Quello è il Posso Quello è il boss Dove stai? Ma che cazzo C'è salito Lassù Ah ok Ma c'è C'è uno zaino Anche No De Formiche E' quello che stavo Con lo cerca io Aspetta Dabby Ma dove cazzo stai? Ma come ci sei Sento Da qua Ma da dove? Ma da dove? Qua Qua E' aperto Ma che cazzo Io ho bello dato Ma che cazzo Io ho bello dato C'è un coi In cui dormire C'è uno zaino Con delle teste Di formica Ti dà Ah ti dà pure il ruote Ah raga Qualcuna propria Ok grande Scusa Ma forse da questo Il boss Intendeva No Non penso Raga Ma la vera domanda E' un'altra Ma dove sta l'uzionetto? C'è che ha fatto tutto ciò Era qua Era qua Non l'ho preso io Raga Tranquillo Ho preso le ultime teste 10 erano Alte 10 Guarda Ma che è che li ho presi? Eh questo tipo qua Darby Darby Questo qua E perché è morto? Morto di fame Ah raga Ma possiamo prendere tutte le parti Ma ancora le può prendere Io ce l'ho inventato pieno Cosa poi stiamo prendendo Ah Eh i pezzi per terra Proprio tutte le loro Zampette di merda Raga Venite a costruire Il Il Eh un attimo Davide Abbiamo le parti Qua Del black Perché non mi fa prendere A me C'è sta pure in acqua Eh raga Forse riesco a fare il parkour Raga ci sono Come? Ma lui Lui fa cosa Ma come? Come ce l'hai fatta? Scusami Come si è salito? Non lo spieghi Non c'è niente Buone Darby ma come ci si è salito? Qua No no bisogna fare una scalina E' comunque andato da un po' di mese Se bisogna fare Ma le quasi mi ha dato un po' di mese Il trampolino Raga non so Mette un cazzo Dove costruire Forse una scala Mi sa Ma come sei salito? Scusatemi Io che ho trampolino Che palle Cato sempre So stupido Non è vero Perché? Perché se Oh 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 L'avevo così messo Oh 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 No Non rimette il pavimento Devi metter il pavimento E vieni da qua sopra di te Ma no No se la mette raga No Aga Siamo due sprinter Due sprinter Ti vado a prendere Ti vado a prendere One eternity later Ti faccio per curti Dai vabbè Vai Vai Sì raga Non ci arrivamo Una volta No 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 Leap black No Ora che si l'avevo fatta Ecco 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 Come hai fatto Scusatemi Non è difficile Eccomi Sto sopra Mi ha scusato C'è? Niente Come ha fatto Signo black Come ha fatto Stica Io non lo so Devi saltare Su questa pietra Su questa pietra Devi riuscire a saltare Oh, ok Ecco, e poi devi incastarsi qua e saltare Devi premere la spaziatrice in continuazione Fino a quando non muori E' fatto Eh Apo togliiti, apo togliiti Ok Vai Siamo arrivati Eccolo tu, è qua A più, apre il coso E' ragno, ragno strano C'è un'altra porta C'è un'altra porta qua Mi sa che forse è collegata con quella Sì, attento, quella porta l'arte porta qui Eh, ma C'è un laboratorio C'è un laboratorio qua Spider repair Ok No saliamo su questo laboratorio se ci riusciamo Vai No, ci entriamo Che ci saliamo Ci entriamo bancando Dobbiamo bancare il mondo Ok, no, si entra da qua Si entra da dove sta passando black Vabbè, è l'unico modo Non si è andato Ma è bloccato Non si entra Vabbè, andiamolo ad esplorare Ma che è, che so il stile umore, regà? Anche voi li sentite Ma che è? Ma regà, Marci, ma cosa ha detto l'alaboratorio? Guarda dove sto Ci stanno i ragni nel laboratorio Un botto di ragni Io sto dentro l'alaboratorio Ahia, come è pazzi? Ah, si è solo l'alaboratorio Black, tu sei sopra il laboratorio Guarda che filete che sei sopra E vabbè, fa un po' so dentro Perché sei so l'alaboratorio? Ah, regà, c'è un problema Aiutati Qual è il tuo problema? È il ragno Eh, allora, allora non entrai dentro la base Questa è solo ragno Ok No, se non casco di sotto, magari Ah, guarda Ah, ah, ah Sì Lo so, apro Eh Non sei n'accorto, vero? Oh nooo Guarda dove sono io Io posso facendo un parkour sulle foglie Eh E quello che vuole fare pure io Però faccio schifo No, tu c'è tutto Ecco Ecco Ti restate, no, ora che qualcuno ti resta Nooo No Porca merda A te, Apo, dai, a me, a me, a me, a me, a me, a me Madonna Madonna Mi sono starbato Grazie per salvaremi Ok, ora meglio si manda Tu hai limiti Come? Vuoi qualche fungo? No, perché no, giusto cento Io non ti preoccupare No, no, zio, porcopi C'erano ancora 22 Ci sono un botto di rani qua dentro In qualche modo saranno entrati, cazzo E qua Anche qua ci sono un botto di rani No, per me ci spunono dentro C'erano Non ti preoccupare Non ti preoccupare Can vous Non ti preoccupare Non ti preoccupare Dio, per me ci sono un botto di rani qua C'erano Gli